Il loro genere di rinfinimento è il country, ma non disdegnano neanche il blues e l'hard rock Cosa di rock, sono la risposta diciamo meridionale a Johnny Cash e June Carter, potremmo dire proprio così Sì sì sì, mi piace E poi sono due persone meravigliose, due artisti straordinari e due unici Li voglio bene ragazzi, li ho già presentati tante volte e presentarli è sempre un'emozione Quindi adesso i The Universo! The Legend of Old Boots and Fire Adesso il primo pezzo, Old Boots Chi crede nei propri sogni, chi ci crede davvero e segue la propria strada Questa è dedicata a tutte quelle persone che affrontano tutti gli ostacoli possibili per arrivare a realizzare il proprio sogno A un applauso a chi ce la fa Insistete A un applauso a chi ce la fa 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 Grazie, grazie soberato!